Sono Antonio, vi do il benvenuto a questo corso di lingua italiana a livello intermedio avanzato. Un caloroso buongiorno a tutti i miei studenti da Antonio, benvenuti a questa lezione di italiano a livello avanzato. In questa lezione continuiamo con l'unità 28 e quindi continuiamo a parlare di cinema. Nella scorsa lezione eravamo arrivati a pagina 154, avevamo letto i due testi che ci raccontavano un po' la storia di due famosissimi e bravissimi attori e registi italiani, cioè Nanni Moretti e Roberto Benigni. In questo testo, se ve ne siete accorti, c'erano alcune parole in blu e dobbiamo ripartire proprio da queste parole in blu. Dobbiamo analizzarle e poi dobbiamo utilizzarle per l'esercizio B. Torniamo indietro e ripartiamo dal testo di Nanni Moretti e quindi vediamo un po' queste parole in blu. Cioè non sono parole singole ma sono più che altro espressioni. Dunque la prima espressione che ci troviamo davanti è l'espressione a tutti gli effetti. È vero perché diceva che Nanni Moretti nasce a Brunico però cresce a Roma che è a tutti gli effetti la sua città d'adozione. Come interpretiamo questo a tutti gli effetti? Che cosa significa? Significa che può essere considerata completamente come. Può essere qualcosa di tipo Xuanzhi o anche Wang Xuanzhi o qualcosa del genere. Vediamo mai a tutti gli effetti la sua città d'adozione. Possiamo fare un altro esempio con questa frase? Cioè con questo modo di dire a tutti gli effetti facciamo un'altra frase. E quindi dato che per esempio prima abbiamo parlato di Roberto Benigni nella scorsa lezione a me verrebbe da fare questa frase. La vita è bella può considerarsi a tutti gli effetti come un film storico perché è un film che effettivamente parla di storia. Sebbene possa essere considerato anche come un film particolarmente drammatico oppure come una commedia nella prima parte e un film drammatico nella seconda è a tutti gli effetti un film storico perché parla comunque di un avvenimento storico. Questo per quanto riguarda a tutti gli effetti. La prossima espressione è trattadei. Questa espressione è in blu. Risaliamo un attimo all'infinito e alla preposizione semplice non articolata che deve essere abbinata ad esso. L'infinito è trattare. La preposizione semplice da abbinare al verbo trattare è di. Trattare di qualcosa può essere spiegato come parlare di qualcosa come discutere di qualcosa con la differenza che di solito viene usato più per le opere d'arte o per esempio i libri che per le persone. Per esempio possiamo dire che in un dibattito due persone discutono di qualcosa oppure in un dibattito due persone parlano di qualcosa mentre magari un film o un libro non necessariamente parla perché il film o il libro non parla ma tratta di qualcosa, racconta qualcosa. Ovviamente nella lingua parlata possiamo usare in maniera indistinta sia trattare di sia parlare di e usarli con persone e libri o film in maniera indistinta. Adesso andiamo alla prossima parola in blu la prossima espressione in blu che è oltre che che ovviamente è però in maniera inclusiva nel suo modo inclusivo quindi può essere inteso anche come zish, yoush questo senso che include quello che si è detto e per quanto riguarda il posizionamento di questo oltre che e di quello che ne deve seguire siamo abbastanza liberi per esempio qui in questo testo viene scritto che il film non poteva non divenire oltre che un inno generazionale un film simbolo di un clima epocale però siamo completamente liberi di scrivere anche il film non poteva non divenire un film simbolo di un clima epocale oltre che un inno generazionale quindi siamo abbastanza liberi di spostarlo a piacimento per dare o per togliere enfasi a una determinata parte del nostro discorso quindi in realtà questo oltre che potrebbe essere sostituito da e anche però quando mettiamo e anche non siamo così liberi di spostarlo al nostro piacimento ma dobbiamo metterlo sicuramente alla fine comunque se vogliamo fare un esempio di uso di questo oltre che possiamo dire vale la pena di andare a Roma oltre che per il Colosseo anche per tutti gli altri monumenti che ci sono da vedere e ho fatto una frase un po' così un po' scontata perché voglio dire a Roma ci sono un sacco di cose da vedere non soltanto il Colosseo quindi ho detto oltre che per il Colosseo anche per tutto il resto tutto il resto delle cose che ci sono da vedere a Roma adesso andiamo avanti ci troviamo un'altra espressione sottolineata in blu che è sin dai che è al rigo 18 più o meno qui ovviamente la sua forma standard con la preposizione semplice sarebbe sin da che non è altro che song quindi per esempio posso dire sin da piccolo mi piaceva guardare i cartoni animati di paperino per esempio sin da piccolo quindi è questo è da piccolo sin da piccolo mi piaceva guardare i cartoni animati di paperino poi ovviamente se dopo questo sin da ci mettiamo una frase temporale introdotta da quando questo sin da possiamo anche tradurlo come per esempio posso dire sin da quando ho letto per la prima volta il nome della rosa Umberto Eco è diventato il mio scrittore preferito che quindi qui è ovviamente anche qui siamo abbastanza liberi di cambiare l'ordine delle due proposizioni quindi di mettere la temporale prima o dopo quindi questa frase poteva anche diventare Umberto Eco è il mio scrittore preferito sin da quando ho letto il nome della rosa e non penso ci sia molto altro da dire relativo a questo sin da e adesso passiamo al testo B e abbiamo la prima espressione che è quella di mettersi in mostra se vi ricordate nella scorsa lezione io ho spiegato questo mettersi in mostra come mettersi al centro dell'attenzione o comunque attirare l'attenzione di tutti insomma è in un certo senso una specie di mettersi sul palcoscenico è mostrare quello di cui una persona è capace quello che una persona è capace di fare qui il verbo è usato alla forma riflessiva quindi mettersi in mostra cioè mostrare se stessi mettere in mostra se stessi qualcosa del tipo oppure possiamo anche usarla alla forma non riflessiva con un oggetto diretto per esempio mettere in mostra le proprie capacità e quindi sarà nulla di più e nulla di meno la prossima espressione in blu è l'espressione al fianco di quando parla di al fianco di Walter Matao piccolo diavolo Benigni è coprotagonista insieme a Walter Matao questo al fianco di significa insieme ok al fianco possiamo benissimo tradurle come zian bing zian quindi questo è recitare a fianco di qualcuno oppure far qualcosa al fianco di qualcuno poi andiamo avanti e ci troviamo con il modo di dire che è in assoluto qui in assoluto diciamo che somiglia un po' a tutti gli effetti però è ancora più assoluto quindi è proprio è come un sinonimo di assolutamente qua dice perché Pinocchio era in assoluto almeno fino all'anno in cui è stato fatto il film più costoso nella storia del cinema italiano e possiamo anche dire che il film Pinocchio era a tutti gli effetti il film più costoso di tutta la storia del cinema italiano fino a quel momento comunque e restando in tema di Benigni posso dire che La vita è bella è in assoluto il film italiano più conosciuto in Cina per esempio perché quando parlo di cinema ai miei amici cinesi tutti indistintamente mi citano questo film che insomma che io ho visto forse un centinaio di volte in tutta la mia vita la prossima espressione che penso sia anche l'ultima espressione la troviamo al rigo 40 ed è l'espressione da sempre da sempre possiamo tradurlo in cinese come quindi se io per esempio dico che io da sempre ho interesse per la musica può essere qualcosa e qui è la stessa cosa perché dice che Benigni è da sempre appassionato di Dante quindi si sa sin da quando era bambino magari fino a oggi può essere anche qualcosa tipo adesso che ci siamo riletti e abbiamo analizzato queste espressioni in blu possiamo finalmente passare all'esercizio vediamo la prima frase la prima frase dice il suo ultimo libro rapporti tra l'Italia e l'Europa dunque sappiamo che è un libro quindi è un qualcosa di non vivo quindi sicuramente non può essere parlare ma sarà che cosa l'abbiamo appena detto trattare quindi il suo ultimo libro tratta dei rapporti tra l'Italia e l'Europa qui ovviamente per rapporti penso si tratti per lo più di rapporti diplomatici e commerciali seconda frase tempi della scuola si vedeva che Mario avrebbe fatto carriera da quando andavamo a scuola si vedeva che Mario avrebbe fatto carriera quindi è qualcosa del tipo sin dai tempi della scuola sin da quando andavamo a scuola Mario già aveva l'aria di uno che avrebbe fatto carriera va completata così con sin dai tempi della scuola terza frase nonostante sia tanto piccolo ti assicuro che è un computer anche qua per esempio i mini computer che escono adesso quelli piccolissimi sembrano non valer nulla e sembrano poco potenti e sembrano avere capacità di ridotte però sono dei computer a tutti gli effetti non hanno nulla di meno ne hanno nulla da invidiare ai computer più grandi quindi sono dei computer a tutti gli effetti poi Anna è una ragazza veramente in gamba bella quindi è sia bella sia in gamba quindi una ragazza veramente in gamba oltre che bella qui come vi avevo già spiegato prima questo oltre che possiamo anche spostarlo cioè Anna oltre che bella è una ragazza veramente in gamba oppure oltre che bella Anna è una ragazza veramente in gamba perché no poi quinta frase dopo il divorzio il grande divo è apparso una giovane attrice sappiamo di questo grande divo che penso sia un attore famoso come può essere uno scrittore famoso un regista famoso quello che volete un divo una persona molto famosa il grande divo è apparso una giovane attrice quindi con una giovane attrice oppure insieme a una giovane attrice però per sottolineare un legame ancora più forte possiamo usare accanto a una giovane attrice frase numero 6 Eleonora è molto socievole anzi spesso le piace ta 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 ecco se è una persona molto socievole che ama stare in compagnia che ama stare con gli altri scherzare attirare l'attenzione su di sé lei cosa ama fare ama ovviamente mettersi in mostra quindi spesso le piace mettersi in mostra 7 La vita è bella è stato ta 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 il film più visto della televisione italiana ecco questo forse se non avete vissuto in Italia per un po' non potete saperlo nel senso che questo film è stato dato in tv un numero spropositato di volte e quindi è stato in assoluto il film più visto della televisione italiana ultima frase l'Italia è un paese con grandi contraddizioni sociali ecco grandi contraddizioni sociali cosa significa che ci sono i ricchi 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 che diventano sempre più ricchi i poveri 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 che diventano sempre più poveri grandi differenze fra nord e sud differenze anche di ideologia di modalità di pensare tutte queste cose qua e queste cose queste contraddizioni ci sono sempre state in Italia quindi non sbagliamo se diciamo che l'Italia è da sempre un paese con grandi contraddizioni sociali e in questo modo abbiamo completato l'esercizio B adesso ci troviamo alla parte C che è divisa in più esercizi la parte di lavoro sul lessico dice tra le parole nel riquadro trovate i sinonimi di quelle in blu e i contrari di quelle in rosso abbiamo questo riquadro con un totale di dieci parole e sotto abbiamo dieci parole altre leggiamo prima le parole nel riquadro abbiamo memorabile che può essere inteso come non wonder oppure one pull out questa è qualcosa di memorabile cioè qualcosa che rimane nella memoria che quindi ricordiamo a lungo poi abbiamo negare questo è facile è vero sconosciuto una persona che io non conosco sarà poi abbiamo importante non c'è neanche bisogno di dirlo è vero poi abbiamo commovente questo può essere un qualcosa che ti commuove e sappiamo che è il verbo commuovere oppure sentirsi commossi è proprio questo gandong poi abbiamo sorprendere sorprendere è proprio fare una sorpresa quindi è zing ren poi originale questo lo sappiamo per forza sicuramente lo sappiamo è vero xin ying poi abbiamo indiscutibile che suona come qualcosa del tipo wu yong zhi yi questo è indiscutibile poi abbiamo arrivare questo lo sappiamo è vero da dao e poi conseguire e come ottenere come li abbiniamo abbiamo le parole in rosso di cui dobbiamo cercare il contrario e le parole in blu di cui dobbiamo cercare il sinonimo quindi allora di secondario dobbiamo cercare il contrario fra le parole che abbiamo visto adesso e di secondario mi sembra che l'unica parola abbinabile come contrario sia importante perché se prendiamo importante come zhong yao sappiamo che secondario dovrà essere forse qualcosa di meno importante quindi è qualcosa di zhiyo poi approdare approdare dobbiamo cercare il sinonimo di approdare e il sinonimo di approdare mi sembra essere soltanto arrivare quindi arrivare oppure approdare può essere usato sia in senso letterale sia in senso figurato quindi metaforico poi controverso qualcosa di controverso è qualcosa che qual è il contrario di controverso perché è una parola in rosso il contrario sarà ovviamente indiscutibile che abbiamo da una parte è quindi in italiano sono due contrari poi abbiamo toccante quindi qualcosa che diciamo tocca le persone ma non che tocca in senso letterale più che altro tocca in modo figurato in senso figurato e tocca il cuore delle persone per esempio quindi questa parola è un sinonimo di commovente poi abbiamo popolare di popolare dobbiamo cercare ovviamente il contrario mi sembra che l'unica parola che possa essere usata come contrario di popolare sia sconosciuto io prima vi avevo detto che sconosciuto era qualcosa del tipo motionrend si va bene se lo usiamo come nome però se lo usiamo come aggettivo allora sconosciuto sta per pu vei ren suo zhid e quindi popolare invece è il suo contrario quindi è qualcosa di tipo yomind giu mind vei ren suo zhid sono i due contrari popolare e sconosciuto poi indimenticabile di indimenticabile penso che venga in maniera abbastanza automatica scegliere come sinonimo memorabile perché abbiamo detto che indimenticabile e memorabile significano entrambi non van oppure van pull out poi continuiamo abbiamo banale che cos'è banale banale è qualcosa di già sentito già visto vecchio diciamo qualcosa che appunto non ha nulla di originale quindi potremmo tradurlo come qualcosa del tipo loud out oppure suo suede quindi per forza di cose il suo contrario sarà per forza originale poi abbiamo stupire stupire è lasciare le persone stupite lasciare le persone sorprese quindi quale sarà il suo sinonimo se non sorprendere è proprio sorprendere poi per quanto riguarda concedere che sta per cheng ren oppure sta per rang yu dobbiamo trovare il contrario e quale sarà il suo contrario se non negare è proprio negare poi ottenere qui ottenere l'ultima parola rimasta e l'ultima parola rimasta andando per esclusione nel riquadro è conseguire anche non sapendo il significato di conseguire possiamo mettere insieme le due parole come due sinonimi quod oppure d tau e va benissimo così adesso il secondo esercizio invece dice completate le frasi con le parole corrette vediamo un po prima leggiamo le parole in blu e poi tentiamo di completare la frase ovviamente allora abbiamo attori lo sappiamo non l'attore poi i protagonisti che al singolare fa protagonista giurengo oppure giu ziao poi abbiamo le comparse che sono tutto il contrario dei protagonisti cioè quelle persone che appaiono sullo sfondo oppure che appaiono soltanto per due tre minuti sempre in ruoli secondari quindi possiamo tradurlo sia come pei ziao oppure anche come chun jong yen yen poi abbiamo l'altra parola è ovviamente film e poi i registi no dao yen vediamo un po questa frase molti grandi ta 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 hanno cominciato con piccole apparizioni come ta 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 diciamo che questa frase dobbiamo cercare due parole che sono due contrari quindi secondo me va benissimo metterci molti grandi attori hanno cominciato con piccole apparizioni come comparse e infatti se vi ricordate diceva la stessa cosa nel testo riguardante benigni che aveva iniziato con ruoli secondari in televisione poi man mano è diventato sempre più importante andiamo alla seconda frase leggiamo ovviamente prima le parole abbiamo la regia che poi è il lavoro del regista poi abbiamo l'interpretazione che quindi è l'azione dell'interpretare un ruogo attenzione qui interpretare non va inteso nel senso di kou yi e non va inteso nel senso di chuan shi ma va inteso nel senso di ban yen cioè che jue se poi abbiamo la commedia non c'è bisogno neanche di dirlo è vero come si giu poi abbiamo i premi lo sappiamo ziang e poi i riconoscimenti sono anch'essi dei premi leggiamo adesso questa frase che ci dice il grande federico fellini ha vinto quattro ta 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 oscar attenzione qua dobbiamo sapere che la collocazione fissa l'abbinamento fisso con la parola oscar e ovviamente premio quindi ha vinto quattro premi oscar e qui non poteva assolutamente dire quattro riconoscimenti oscar perché nessuno in italia dice riconoscimenti oscar quattro premi oscar per la ta 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 e uno alla carriera quindi ha vinto un premio oscar perché ha avuto una carriera molto ricca di successi e di grandi capolavori e poi quattro premi oscar per via della sua regia non poteva assolutamente essere interpretazione perché fellini non recita nei suoi film ma li dirige soltanto quindi poteva essere soltanto regia poi tre le parole sono incassi quindi quanto il film guadagna sono i soldi del film poi il cinema e qua non c'è bisogno neanche di dirlo il grande schermo il grande schermo non è altro che un'altra parola un sinonimo di cinema perché se ci pensate il grande schermo è il cinema perché all'interno del cinema c'è uno schermo grande e il piccolo schermo è la televisione perché a casa noi abbiamo la televisione con uno schermo molto più piccolo di quello del cinema poi abbiamo i biglietti e qua non c'è neanche bisogno di spiegarlo e poi abbiamo sale la sala è quella che comunemente viene chiamata da ting quindi qui si parlerà di di nien ting ok le sale sono le stanze del cinema perché il cinema ha diverse sale specialmente i cinema abbastanza grandi hanno diverse sale nei quali proiettano diversi film allo stesso tempo adesso proviamo a leggere la frase il film è da tre settimane nelle tatatata ma ha già registrato tatatata da record di solito dove viene proiettato il film dove viene mostrato il film nelle sale ma ha già registrato tatatata da record che cosa vendite da record e quindi incassi da record quindi sono i soldi che sono stati fatti con le vendite dei biglietti quindi ha già registrato incassi da record quarta frase abbiamo danno verbo dare che quindi significa proiettare se per esempio dico quel cinema da un nuovo film significa che in quel cinema possiamo andare a vedere quel nuovo film questo col verbo dare è un uso abbastanza inusuale del verbo dare poi girare invece è proprio fare il film girare è il contrario se vogliamo di questo dare girare un film è proprio pae di nien poi abbiamo proiezione proiezione è l'azione di far vedere un film di mostrare un film e quindi possiamo dire di dare un film poi visione invece è l'azione di vedere un film e poi pellicola è ovviamente un sinonimo di film vediamo un po' stasera all'ariston l'ariston penso sia il nome di un cinema stasera all'ariston tatatata il film di tornatore cosa fanno all'ariston stasera? stasera danno all'ariston il film di tornatore quindi stasera è possibile vedere il film di tornatore all'ariston in prima che cosa? in prima visione prima visione significa che questo film non era ancora arrivato al cinema e possiamo vederlo per la prima volta oggi stasera all'ariston ci andiamo? questo per quanto riguarda questo esercizio adesso la parte d dice riflettiamo sulla grammatica esercizio 1 dice nel primo testo abbiamo letto nanni moretti è cresciuto a roma 1 e sono seguiti altri film 7 i verbi crescere e seguire possono prendere come ausiliare sia essere che avere per quali tra i verbi che seguono vale la stessa regola? ci sono dei verbi che hanno come ausiliare sia essere che avere ovviamente cambiando l'ausiliare cambia anche il senso del verbo vediamo un po' quali sono i verbi fra questi elencati dunque vediamo finire doppio ausiliare? sì posso dire la seconda guerra mondiale è finita nel 1945 e posso dire io ho appena finito i compiti come vedete cambiando l'ausiliare cambia anche levemente il significato poi raggiungere doppio ausiliare? no non c'ha il doppio ausiliare raggiungere poi salire doppio ausiliare? sì ho salito le scale e i prezzi della benzina sono saliti vedete come di nuovo cambia lievemente il senso cambiando l'ausiliare poi abbiamo camminare doppio ausiliare? no assolutamente no e poi abbiamo passare doppio ausiliare? certo sono passato da casa sua e gli ho passato i compiti per esempio di nuovo una differenza lieve di significato col cambio di ausiliare e poi coprire doppio ausiliare? no assolutamente no coprire ha soltanto avere come ausiliare poi dice tra i verbi che prendono sia essere che avere sceglietene un paio e formulate delle frasi coniugandoli con entrambi gli ausiliari questo detto fatto è vero abbiamo fatto l'esempio quindi abbiamo già fatto questo esercizio senza saperlo adesso giriamo pagina facciamo anche l'esercizio 2 nel testo su benigni abbiamo letto un tour chiamato appunto tutto dante sapreste spiegare perché in questo caso usiamo un avverbio come appunto? beh questo è abbastanza facile secondo me per enfatizzare o comunque dare importanza al nome del tour di benigni in cui legge dante e dato che avevamo già nominato dante in precedenza possiamo metterci a punto qua per segnalare la relazione che esiste fra quello che avevamo detto prima e quello che stiamo dicendo adesso quindi un tour su dante chiamato appunto tutto dante poi dice altri avverbi o locuzioni avverbiali usati spesso in italiano all'interno di un discorso sono proprio all'improvviso a proposito formulate una frase con ciascuna di esse quindi con ciascuna locuzione avverbiale questo mi sembra abbastanza facile dunque facciamo una frase con proprio a me viene in mente subito così di getto proprio mentre andavo via il dottore è finalmente arrivato poi con all'improvviso questa anche molto facile da fare ero sul divano a guardare un film e all'improvviso è andata via la luce e con a proposito mi viene in mente la frase non ho mai visto un film di benigni e a proposito di film stasera andiamo al cinema e direi che per adesso possiamo fermarci qui per questa lezione nella prossima lezione concludiamo questa unità e finiamo di parlare di cinema abbiamo ancora due belle paginette da completare comunque per adesso come sempre vi do appuntamento alla prossima lezione e vi auguro buono studio e buon lavoro ciao ciao ciao